buongiorno ragazzi ricordo che per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi e attivando la campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso è passata in osservata una dichiarazione del mio presidente a cui sono legato tantissimo che a Siena ebbe anche modo di salutarlo in tutta quella barahonda perché ero lì sotto la tribuna vicino a lui e ragazzi in retroscena di Moratti sullo scudetto bellissimo gesto di Steven Zhang bellissimo gesto di Steven Zhang perché Moratti dice mi ha chiamato per complimentarsi e io gli ho detto ma come chiami me per ringraziarmi e lui Zanga Moratti sì è tutto merito tuo eh bravo Zhang la prima volta guarda ti dico bravo hai riconosciuto che i meriti sono quasi tutti di Moratti anche perché in un'intervista a Sky eh cioè se qui leggi Moratti consigliai subito Marotta a Zhang quindi anche queste favole che Zhang ha costruito Zhang nell'articolo che vi posto eh nell'intervista ha fatta Moratti a Sky Zhang non sapeva nemmeno cos'era una palla da calcio Moratti per due anni gli fa da consigliere e innanzitutto innanzitutto gli fa vedere questa e gli dice guarda questa intanto incominciamo da questo gli fa Moratti vedi questa rotola c'è una rete e va dentro deve andare dentro e questo il giochino nel calcio quindi basta con queste favole però devo dire che il gesto di Zhang è stato molto signorile io lo devo riconoscere ha riconosciuto che il merito è di Moratti perché Moratti eh per i primi due tre anni porta per braccio questo ragazzino cinese eh a quei tempi ricchissimo con zero problemi non i problemi che ha oggi e lo indirizza verso il mondo eh del calcio quindi spero che sia finita la favola che Zhang ha messo Marotta lì perché non è vero diamo i meriti a chi li ha e soprattutto un gesto ripeto molto signorile da parte del ragazzo cinese che comunque riconosce a Moratti tutti i meriti perché Moratti è e rimarrà sempre il mio presidente questo presidente qua io non sono mai riuscito a sentirmi rappresentato identificarmi in questo personaggio che tra l'altro per come la vedo io non ha soprattutto per la seconda stagione spettacolare ma soprattutto per questa perché anche l'anno scorso è stata un'ottima stagione ragazzi nonostante le dodici sconfitte ma soprattutto per questa stagione per come la vedo io a zero meriti Steve Zhang anzi ha creato solo problemi a livello di immagine i meriti sono della dirigenza dei calciatori ora i giornali cominciano a sopparci il biscotto no quindi dicono rimane Zhang secondo loro secondo loro soprattutto i giornali giornali quelli nemici perché noi sappiamo abbiamo il giornale di Pechino che riporta quello che gli dicono quello rosa che fa altro che fare combiati aumenti di capitale soci di minoranza Zhang ha risolto con 3 Zhang si ricompra l'Inter ne hanno detto a più non posso addirittura c'è un titolo stamattina che in Zhang dice ora Zhang non vendermi i migliori giocatori allora ragazzi senza creare panico io però ti dico che la struttura dell'Inter è forte se te guardi l'Inter ne parlavo con Tiziana e saluto ciao Tiziana ne parlavo ieri Tiziana e dà ragione se te guardi l'Inter giocare in Serie A rispetto alle altre sembra una squadra della sembra che tu stia giocando alla Playstation velocità scambi di prima sovrapposizioni riempimento spazi l'Inter gioca soprattutto dove vede spazio cioè è una squadra che ormai va da sola meccanismo perfetto ma questa squadra non devi togliere nulla devi aggiungere e togliere tra virgolette quelli che non ti servono quei sette otto giocatori quadrato classi senza Arnauto vince Sanchez e devi soprattutto capire che hai tre titolari barra quattro che ormai sono troppo in su con l'età e non ci puoi fare affinamento quindi la rescita ci deve essere una rescita ma te a questa squadra devi aggiungere non devi togliere nulla perché secondo me cambierà la proprietà Zhang se ne andrà però quello che che dicono i nostri detrattori è che comunque con Zhang ovviamente ci sarebbe un mercato a zero ma non è che ci sarebbe un mercato a zero con Steve Zhang con Steve Zhang devi vendere per fare un mercato a zero è diversa la cosa e questa squadra non facciamo lo stesso errore cioè io non ci voglio nemmeno pensare ad uno scenario simile a quello di Conte dove lui va via perché sa che che Zhang deve vendere perché non ci sono soldi a questa squadra devi mantenere l'ossatura devi mantenere i più forti ed aggiungere perché distruggere una macchina perfetta perché questa squadra qui è molto più organizzata e forte anche se non negli uomini nella rosa ma come contesto proprio calcistico come resa è molto più forte della squadra di Conte ripeto non è più forte come uomini perché Conte aveva una rosa migliore di questa però questa è una macchina perfetta quella di Conte non lo era e bisogna aggiungere non bisogna sottrarre nulla va bene ci siamo capiti motivo per cui per non sottrarre nulla a questa squadra a questa macchina perfetta perché lui deve fare il salto di qualità anche in Champions League anche se per certi vezzi un po' già l'abbiamo fatto l'anno scorso devi aggiungere con Steve Zhang non puoi aggiungere nulla puoi solo sottrarre ciao Inter ciao 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 ciao